La questione Gans continua a disturbare i sonni del Pescara. L'interesse del Palermo è forte, l'inserimento del neo di essere rosa nero Fabio Lupo è stato deciso. I siciliani fanno sul serio e lo hanno fatto intendere sia la Juventus, proprietaria del cartellino dell'attaccante, sia l'agente Davide Lippi. Il presidente Sebastiene però può far leva sulla volontà del giocatore che ha spinto per una piazza che credesse fermamente in lui. Zeman lo ha messo al centro del suo progetto di rilancio, al centro del suo ipotetico tridente, dunque massima fiducia e la possibilità, stando agli standard Zemaniani, in caso di positiva stagione, di un campionato anche da 20 gol. Basterà questa prospettiva per convincere ancora Gans a sposare il biancazzurro o il giocatore cederà al maggior blasone e quasi certamente alla maggiore forza economica del Palermo? Zeman e Sebastiene sperano nella prima ipotesi. Un'altra vicenda che si trascina da tempo è quella legata a Coulibaly. Anche dopo i contatti di ieri sembra che l'Udinese, che sta facendo un pensierino anche a Zampano, vista la probabile partenza del terzino Widmer, sia in vantaggio e abbia superato Inter, Juventus e Genoa nella corsa al gioiellino senegalese. Ma ormai sbilanciarsi è davvero difficile, visto che Coulibaly è sembrato giocatore di tante squadre in questi due mesi. In caso di fumata bianca col club della famiglia Pozzo, non è da escludere che il giocatore possa restare un anno in prestito di un rival adriatico. Intanto il Pescara pensa anche ad altri obiettivi? Così si riaprono due fronti. Uno è quello della mezzala Matteo Pessina. Il giocatore di proprietà del Milan dovrebbe passare all'Atalanta nell'affare Conti e gli orobici poi potrebbero girarlo in prestito proprio alla corte di Zeman. L'altro fronte è quello del ritorno del centravanti Pierluigi Cappelluzzo, che arriverebbe dal Verona in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il nome nuovo delle ultime ore è invece quello dell'attaccante esterno Massimiliano Gatto. Reduce dalla difficile stagione di Pisa, il fratello dell'ex lancianese Leonardo, arriverebbe in prestito dal Chivo Verona. Il Delfino deve però superare la concorrenza del Parma. Sul fronte partenza sembra invece essere giunto il veto di Zeman alla immediata partenza del portiere Pigliacelli e dell'esterno Nicastro, di rientro dai prestiti di Trapani e Perugia e richiesti dall'Avellino. Prima di prendere decisioni il Boemo li vuole allenare e valutare dal vivo per verificare se possono essere utili al suo progetto tecnico.